Questo lavoro è... è concepibile ragazzi, è impattante, venerdì tragico! Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia, oggi caro Brambo è arrivato il momento di tirare le somme su quello che è stato il nostro percorso con Zwift, il nostro percorso di allenamenti, gare, meet up eccetera eccetera. Abbiamo già fatto un riepilogo alla seconda settimana per un totale di quattro, oggi invece parleremo delle ultime due settimane del test finale sull'epiccom. Le ultime due settimane sono state costruite come le prime due quindi con due workout al martedì e al venerdì con dei lavori già programmati da Zwift abbastanza duri, una gara mercoledì che faceva Alan insieme a Bettioli, l'ultima volta anche con Filippo Ganna, un meet up che abbiamo fatto una volta giovedì e l'ultima volta sabato per dare a Diorulli e poi l'allenamento della domenica che nelle ultime due settimane abbiamo fatto solo una volta nella prima settimana. Purtroppo caro Brambo, tutti sappiamo come sono andate le mie ultime gare, non sono riuscito a portare il mio avatar all'arrivo, ci sono stati dei problemi tecnici, non è stata colpa mia, l'avatar anche lui mi ha giurato e speggiorato che non è colpa sua, un giorno andremo a scoprire davvero che cosa è successo, comunque sarebbe bello rivedere anche qualche immagine saliente di quei momenti particolari, anche perché c'è stato l'ultima puntata, c'erano anche delle presenze importanti come Magrini, Gregorio, Ganna, Bettioli. Andiamo a vedere qualcosa, perfetto, siamo in pole position, che classe Maranga. Già in acido però. Betti, sei un po' dietro tu però, eh. C'è 449esimo, Bettiolo. Ma ti stanno tagliando il giardino dentro la finestra di casa, Bettiolo. Gli devi dare secca, le devi staccare di ruote. La misteria, sono finito, bravo. Ora, se no, ti faccio un disegnino. Via, al Gritter London Flat Route, circuito da 11 chilometri e 600 metri. Come 549 vato. Bippo, dicci qualcosa, poi ce la fai? C'è anche Pozzorini qui davanti. Sì, 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 sì. Va bene. Guarda Maranga, che signore. Già in accappatoio, bravo Maranga. Dagli la secca qua. Dagli la secca qua. Dagli la secca qua. Sì, ultima curva per Ganna. Pippo, volata, volata anche te, Pippo. Vai, Pippo, vai, sbattata. L'ultima puntata, Pippo. L'ultima sbattata. Dai, dai, dai. Ma che watt. Oh, mi guarda lì. Guarda lì. Per un piazzamento dolore. No, 1400 watt mi sembra aver visto. Gare, divertentissime, durissime anche vedendo i watt che avete fatto. Difficile anche per me a gestire tutto questo traffico di voci e persone in diretta, però è stato veramente bello. È una cosa che rifaremo più avanti. Io invece personalmente ho sofferto tanti workout del martedì e del venerdì e tra l'altro ho fatto anche qualche video con la GoPro intanto che pedalavo. C'è anche qualche prima e dopo dove si può apprezzare la differenza di sforzo. Andiamo a vedere. Per il primo lavoro di oggi sono 15 minuti incrementali vicino alla soglia a 75 RPM, però la cosa difficile è che bisogna pedalare piano, quindi lavoro impattante sulla forza. Siamo a metà della seconda e ultima ripetutona da 15 minuti, abbastanza bene, considerando la durata della ripetuta e l'intensità non vado neanche tanto male, dai. Allenamento concluso, due ripetute belle lunghe da 15 minuti l'una vicino alla soglia, quindi si è sentito, però sembra che la gamba iniziava a migliorare un po', eh. Andiamo Alan in diretta. Questo lavoro è concepibile ragazzi, è impattante, venerdì, tragico. L'abbiamo portato a termine però, è stato più duro fino a qui. Comunque sì, Brambo, hai sofferto mai come me a fare le gare dove nelle prime due ho dato l'anima, però ti ho visto bello rosso col fiettone da San Bernardo, insomma anche tu ci hai dato dentro, bisogna ammetterlo. Ero rosso, ma non tendente al viola come nell'ultimo test sull'epicom, che adesso andremo a vedere, perché lì veramente ho dato tutto, tutto, tutto quello che potevo dare in questo periodo. Invece io, Brambo, non sono stato brillantissimo, eh, non ho fatto proprio una bella performance, per più motivi, comunque, sono rimasto più o meno allo stesso livello. Ma andiamo ad analizzare i dati. Eh, appunto, i dati. Allora, abbiamo scelto come salita di riferimento l'epicom su Zwift, dalla parte reverse, quindi da dietro, che è un pochino più pedalabile. Infatti una salita di 9,4 km virtuali, ha una pendenza in media del 4%, dove però sono presenti anche le tratte in discesa, quindi di fatto la pendenza è sempre attorno al 5-6% nei tratti in salita. L'abbiamo fatto questa salita 4 settimane fa, la prima volta, devo ammettere, non l'ho fatta tuttissimo, però ho spinto, invece l'ultima volta l'ho fatta veramente tutta e i valori sono migliorati parecchio. Va da leggere i miei, Alan, così facciamo un po' riepilogo. Vai a vedere i tuoi, sì. Quelli più importanti, diciamo, sono passato da un tempo di 33,9 a un tempo di 27,5, quindi ho abbassato di 6 minuti. Una potenza media da 242 a 308 W, e una frequenza cardiaca media che si è alzata anch'essa da 159 a 166, questo è il sintomo del fatto che ho spinto un po' di più. Bravo Brambo, invece io, al test iniziale che avevo fatto, il mio tempo era di 23,12, mentre quando l'ho rifatto dopo un mese 23,54. Però va detto che l'altro giorno quando ho rifatto il tempo non stavo bene mentalmente, non avevo quella grinta proprio di dare il tutto, sono sincero. Ho fatto a un buon ritmo, tra l'altro qualche piccolo problemino all'avatar nel finale c'è stato. Alla fine ci sono un po' di secondi di differenza, 32 secondi di differenza, però più o meno considerando l'impegno e il problema dell'avatar ha fatto lo stesso tempo, dai. Sì, anche perché... Sono passato da 337 W medi della prima volta a 329 W della seconda. Andiamo a vedere un contributo video della mia scalata all'epicom per renderci conto di quanto mi sono impegnato per farle, poi rientriamo ad analizziamo questi dati del perché io sono migliorato così tanto e Alan invece è rimasto pressoché stabile. Oggi è il test day, siamo alla fine delle quattro settimane, test sull'epicom reverse da dietro, come abbiamo già fatto un mese fa. Speriamo di fare un tempo migliore, almeno penso di sì. Vediamo di quanto sarò migliorato. Manca un chilometro e mezzo la letta cristiana, bisogna spingere. Ok, discesa, recuperiamo. Ho 167 battiti, facendo 64 ore di scese, adesso parte l'ultimo chilometro, in apnea. Allez! Ancora 500 metri. Vedo l'arrivo, 170 metri. 27.4 Ho fatto veramente tanta fatica, lo ammetto, ho spinto a tutta, la prima volta non avevo spinto così forte, però sicuramente sì, non avrei guadagnato 6 minuti, però almeno 4 minuti, se avessi spinto a tutta anche la prima volta, li avrei guadagnati, perché in effetti i numeri sono aumentati. Io ho iniziato queste quattro settimane con un FTP attorno a 240 watt e ho concluso con un FTP stimata appunto dall'epicom attorno ai 295, quindi 45 watt in più di FTP in questo periodo di quarantena. Perché? Perché arrivavo da un periodo in cui invece mi allenavo pochissimo su strada, quindi di fatto io in questo periodo sono andato ad aumentare le mie qualità e le mie caratteristiche. Io invece diciamo che mi sono sempre allenato in maniera costante, a gennaio avevo fatto anche il costride, avevo messo sulle gambe tantissimi chilometri, prima di iniziare l'avventura con Swift avevo fatto tante dirette con i pro, quindi mi ero allenato e diciamo che partivo da una base discreta, il mio obiettivo era quello di mantenere, così è stato, alla fine i watt sono sempre quelli, più o meno. Avevamo obiettivi diversi, i risultati sono molto diversi, ma entrambi ci possiamo ritenere soddisfatti, tu non dovevi perdere condizione per essere pronto a ricominciare su strada, io invece dovevo migliorare un po' perché ero veramente a terra, quindi quattro settimane che sono serviti entrambi. Per concludere ho letto sui social in questo periodo alcuni vostri commenti, alcuni vostri posti, in cui dicevate che insomma siete sorpresi di quanto andate forte adesso su strada dopo quattro settimane di allenamento indoor, questo perché come abbiamo detto più volte si fa tanta qualità sui rulli, quindi se si va a fare una salita di dieci minuti a tutta, magari se la si fa più forte rispetto a prima, soprattutto se si era nella mia condizione. Sì, l'unica cosa che manca è il fondo, perché magari siamo abituati a fare un'ora, fatta bene sì, ma solo un'ora, quindi magari dopo le due ore di bici, due ore e mezza, si potrebbe andare in crisi, però su quello che è la qualità non ci sono dubbi, tutti più o meno sono migliorati, soprattutto quelli che praticamente hanno una condizione atletica bassa, come te Giorgione. Esatto, fateci sapere nei commenti se siete migliorati dopo questo periodo di quarantena, oppure se siete peggiorati perché magari non siete riusciti ad allenarvi in modo costante, scrivetelo pure qui nei commenti, mettete un bel like a questo video, condividetelo con i vostri amici, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e seguiteci sulle nostre pagine social. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! Ciao!